Adam si dà la carica, guarda là, aumenta i giri del motore... Fantastico! Apre lo Slam Pack ed escono tantissimi Beans dorati! Iniziamo con il primo round! Che classe! È velocissimo! Ha quasi finito! È vero, non ha fatto neanche un errore! È sembrato così facile! Secondo round! Ehi, ma non ci posso credere! Un round perfetto! È diventato velocissimo! Molto bravo! Ultimo round! Tre in una mano! Coraggio, Adam! Ce la puoi fare! Non c'è riuscito! Dai, Adam, concentrati! È il più difficile di tutti! Sta respirando! Ce la fa, amico! Eccoli! Tre in uno! È stato un gioco da ragazzi per lui raccogliere gli ultimi! I nostri campionati sono finiti! È stato un onore potervi presentare i Mighty Beans Games! È stato un Mighty Piacere! Ci vediamo presto, amici fagiolini! Mi raccomando, imparate i nostri giochi! Ci vediamo presto l'ultima volta! Mighty Beans! Tutti insieme! Mighty Beans! Mighty Beans! Ciao, è stato bello!